tino quante volte quante volte siamo venuti qui al ciringhito lungo mardi con la lans per dire che sui box sui box dei pescatori si fa bagordo si fa bagordo guarda guarda le tracce le vedi le tracce dal basso le vedi la domanda non è come perché il come è evidente la domanda è tino perché perché uno beve la bottiglia la lascia qua perché non lo sa e lo so da dove venite voi in francia e lo stesso in francia tu le mont e pei tu le mont e pei tu il mondo e paese tutto il mondo e paese dove vien du france du sud france du sud avignon merveilleux merveilleux avignon 80 km al nord di avignone tino il gemellaggio bari avignone la provincia di avignone dove abbiamo scoperto che tutto il mondo è paese anche lì succede questo e quindi tino civiltà civiltà sempre dappertutto bienvenu a bari bienvenu a bari bienvenu bienvenu tino bisogna capito turisti meno male che ci danno conforto meno male che ci danno conforto perché altrimenti ma guarda che spianata di bottiglie di birra perché poi succedono le cose simpatiche sai cosa tino che poi sanno i pescatori giù c'è a meno una bottiglia c'è una folata e l'anno in te è vero è successo tante volte tino poi l'hanno in testa i pescatori vabbè succede tino c'è un solo un problema con ma scena c'è dico come come scendiamo si ci proviamo da qua dino non riprendere che se succede il patatrac ah no ce l'abbiamo fatta per ora è solo per ora con gli amici di avignone dalla france è tutto mon dieu mon dieu de la france donne moi la patience mio dio mio dio della francia donaci la pazienza si vede che la luce è cambiata non è più quella di stamattina tino erano le dieci e mezza quando abbiamo denunciato il fatto della presenza delle bottiglie e lì abbiamo dato la colpa agli incivili perché sono gli incivili però alle 4 di pomeriggio in uno dei luoghi più trafficati caratteristici folcloristici anche della città di bari possono rimanere ancora quelle bottiglie di birra sul tetto di box dei dei pescatori e polcore locale giornal sim questi chiacchiere cioè ce ne veniamo fuori con questa storia del folklore e restano le bottiglie la speriamo che non si alzi il maestrale nel prossimo euro dicono che deve alzarsi il maestrale quella folata di vena bottiglia e finisce in testa qualcuno pur cadere si rompe mille pezzi ma finire in mare contenti voi contenti tutti